il metto tedesco m42 replica interamente in acciaio verniciato in feldegrao grigio verde fuori da reazione rivetti soggolo in cuoio regolabile interno fedelmente ricostruito vera pelle neutra cordino per stringerlo cerchiato con l'alluminio ribattuto di ottima fattura ben congegnato e costruito replica fedelmente l'originale disponibile in due taglie che va a coprire tutti i fabbisogni abbiamo la taglia sm e poi la lx e comunque si può regolare leggermente internamente quindi Grazie.